partete tramorsa lungo la corda in vantaggio avendo all'esterno Lives che gradatamente passa in vantaggio poco prima dell'imbocco della curva poi tramorsa ancora Okiewea segue all'esterno Complicated Team quindi è lungo la curva abbiamo Lives al comando davanti a Okiewea tramorsa Complicated Team quindi ancora esoterica per linee interne Orleans quindi Pilot con in coda Wind and Park Cavalli ora prossimi all'imbocco della retta di arrivo con Lives al comando e Okiewea al suo inseguimento tra i due trova spazio tramorsa poi per linee esterne Complicated Team in anticipo su Okiewea per linee interne trova il barco esoterica poi all'argo di tutti Orleans con all'argo ancora Wind in the Park e Intense Rock Lives sta allungando nei confronti di esoterica che ci prova al suo interno a largo solo tramorsa e Orleans a 150 dal palo Lives sempre in leggero vantaggio attaccata all'interno da esoterica a largo Orleans nel tratto finale Lives si impone su esoterica al terzo posto Orleans su tramorsa e Complicated Team andiamo a rivedere le immagini che ci ripropone la regia con il numero 7 dello schieramento Mirko Mimmochinsella Lives a bersaglio al posto d'onore per linee interne esoterica con il numero 8 al terzo e il 6 di Orleans quindi 786 il probabile ufficioso arrivo di questa sesta e ultima corsa di Napoli per oggi è tutto a risentirci mercoledì prossimo con il prossimo convegno di Galoppo Grazie a tutti